Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui in questo nuovo video, nuovo episodio di Farming Simulator 22 dove ci siamo provveduti a fare una nuova azienda non vi spiego nulla perché trovate tutta la spiegazione nell'altro video, nel video precedente a questo dove vi ho spiegato un po' tutta la situazione che c'è dietro questa nuova azienda che ho voluto farmi partendo da zero, tra virgolette, perché comunque avevo già 300 di ore di gioco su un altro profilo ho fatto già 7 video a riguardo facendovela vedere, facendovi vedere come la gestivo e insomma ho solo trasferito tutti i veicoli, nel senso li ho dovuti ricomprare insomma abbiamo fatto un po' di manovre, ho già spiegato tutto nello scorso episodio non perdo tempo ulteriore perché ci ho messo un po' a spiegarvi tutta la faccenda allora, c'eravamo lasciati lo scorso episodio che avevamo raccolto il sorgo dal campo 40 questi sono tutti i campi che ho ricomprato ma non ho seminato io mi trovo già delle cose seminate appunto di default dal gioco e ora devo arrivare a mettere i campi a nudo per poterli poi seminare con tutto ciò che ci occorre abbiamo seminato del sorgo e abbiamo messo il raccolto, parte del raccolto, nel pollaio ora dobbiamo solo e abbiamo comprato anche 60 galline per iniziare perché io ho rifatto l'azienda ma tutti gli animali che avevo non ho più niente se non appunto queste galline che di tanto in tanto mangeranno roba e mi consumeranno a dovere il tutto quindi spero di riuscire ad arrivare ad avere qualcosa in più da dargli anche prima che finisca il sorgo nel mio silo perché ne abbiamo 17.000 ma queste magnano eppure parecchio allora siamo a ottobre possiamo raccogliere come vedete un bel po' di roba abbiamo campo 36 e 42 con 42 con la soia 36 con i girasoli e abbiamo 39, 41 e 53 con la barbabietola da zucchero ora io la barbabietola da zucchero non ho il macchinario per farlo, per raccoglierlo quindi mi toccherà andare al concessionario e noleggiarmene una allora tecnologia per barbabietole questi sono i macchinari io pensavo di comprarmi questo che tra l'altro è quella dove ce ne va di più 45 metri cubi perché questa qui sì che ha un'apertura di 10 metri ma mi occorre un rimorchio e io sinceramente collegare un rimorchio qui dietro non mi sembra il caso quindi dovrei stare dietro dietro al macchinario con un veicolo e sinceramente non mi va perché nel mentre questi raccolgono io vorrei fare altro queste qui dovrei noleggiare sia questo che la lama quindi questa qui che è tutta completa la configuriamo la noleggiamo per 24.000 euro vai purtroppo bisognerà spendere un po' di soldi ma va bene ma va bene così ma va bene così ovviamente tutti questi soldi che abbiamo sono come se fossero quelli delle altre aziende ma in realtà no perché come sapete dovremmo poi piantare le olive olive che ancora non ho potuto piantare ok vai andiamo andiamo in azienda fammela vedere da dentro che tra l'altro appunto è la prima volta che prendo un veicolo del genere dobbiamo obbligatoriamente però raccogliere le barbapietole bene siamo arrivati allora mettiamoci subito in posizione sono curioso anche di vedere il funzionamento del di questo macchinario allora a parte blocchiamo un po' la strada ma non fa niente dispieghiamola sì scusi signore ok ok quindi la abbassiamo perfetto la accendiamo ok e partiamo oddio madonna ha laggato tutto ok molto fico molto fico ok sarà interessante vedere quanto ci mette a raccogliere il tutto ma credo che sia tipo la a parte che volendo noi abbiamo tutta questa barbapietola da raccogliere e possiamo iniziare ad avviare anche la produzione al allo zuccherificio ti dirò ti dirò non male non male non male allora facciamo così assumiamo l'operaio intanto perché comunque abbiamo abbiamo un bel po' da fare mamma mia tre campi soprattutto il 39 questo è gigantesco io infatti il 39 lo vorrei adibire al cotone ma vabbè se ne parlerà in un futuro ora dobbiamo raccogliere qui il campo di girasoli l'abbiamo già pronto quindi iniziamo a dispiega subito la mia di trebia perché tanto ci serve di spiegata rispetto all'altra carriera ho lasciato l'impostazione della neve a terra carina ci sta mi piace ora vediamo finché magari non mi porta non mi crea problemi ma non credo insomma dai vediamo staremo a vedere intanto abbassa la lama accendi la lama e si va di raccolta perfetto così ci facciamo anche i girasoli e i girasoli li possiamo iniziare a portare al frantoio frantoio con il quale quindi poi potremmo iniziare la produzione di olio di girasoli seppur comunque questo campo ci darà poco raccolto però potrà essere già un minimo punto di profitto di profitto ok 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 bene 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 perfetto direi assolutamente perfetto intanto lì poi il tizio provvederà da solo sperando che non passi un treno mentre lui faccia manovra e ce lo troviamo disintegrato perché tanto potrebbe succedere è successo spesso e volentieri purtroppo potrei assumere anche questo operaio nel mentre e andarmi a seminare un pochino di erba ma l'erba la posso seminare adesso? beh assumi un attimo l'operaio l'erba la posso seminare adesso? non mi ricordo mai no l'erba non la posso sì no la posso seminare ultima occasione per seminare l'erba? eh amici miei allora mi sa che io approfitto lascia l'operaio campo 49 dobbiamo andare a seminare un pochino di erba allora trattore non questo questo vai il landini come l'aiutante F è bloccato da un oggetto? che cazzo hanno fatto? ah no perché c'era Mimì e Coco qui che c'era amico Fritz che stava raccogliendo le barbabietoles allora colleghiamo la seminatrice pottinger perfetto e cambiamo mettiamo erba tanto l'erba la possiamo mettere una volta e poi non ci serve più dobbiamo innanzitutto però riempire tutto quindi andiamo un attimo alla zona dei silos così carichiamo i semi carichiamo il fertilizzante e poi stiamo a posto allora apri la copertura tanti silos sono pieni quindi ok questo l'abbiamo riempito qual è quello del fertilizzante? questo qui mi sa bene? sì perfetto riempiamo anche di fertilizzante solido olè perché infatti quest'altro è di fertilizzante liquido però li abbiamo tutti anche perché appunto avendo spazio ho potuto metterlo perché nella scorsa azienda non avevo l'opportunità di mettere il silo per il fertilizzante quindi ogni volta dovevo andare a comprare i singoli pallet e metterli nel nel capanno mi occupavano spazio quindi sinceramente molto meglio così ok ci dirigiamo al campo e andiamo e andiamo intanto quella lì continua a raccogliere poi man mano che sarà piena andremo con il rimorchio con il camion e scaricheriamo io ad esempio abbiamo il cotone ma questi campi non li ho voluti comprare per ora perché tra l'altro potrei disegnare anche anche eventualmente questo campo con l'erba forse quella lì è poca in realtà ora qui ci è seminata la colza ma a noi non ce ne frega un cazzo e ce la leveremo dai coglioni ci seminiamo l'erba almeno possiamo iniziare a fare un pochino di fieno per quanto riguarda la stalla e per le pecore che non è male aiutante J ok quello di barbapietola è pieno all'80% ok quindi tra poco dovremo andare a prendere il camion per per effettuare il primo scarico allora intanto qui la barbapietola da zucchero ha riempito tutto quindi prendiamo il camion e andiamo con con il rimorchio qui a riempire di contenuto perché a quanto pare ci vorrà del tempo ok andiamo e comunque fruttano parecchio le barbapietole con la gana da zucchero l'ho visto già nell'altro nell'altro profilo che insomma ci vuole veramente un botto per raccogliere tutto però a noi va bene a noi va bene che iniziamo a produrre lo zucchero visto che la fabbrica ce l'abbiamo lì davanti l'ho già messa è solo in attesa di ricevere il materiale quindi sarà un'operazione lunga infatti questa molto probabilmente poi la finirò la finirò da solo off off camera direi che forse è quanto di più adatto ok ci mettiamo qui e scarichiamo tutto il necessario anche perché 45.000 lo riempirà abbastanza anche questo rimorchio che è da 59.000 se non sbaglio quindi io direi che ora che riempiamo poi lo possiamo andare già a scaricare tutto allo zuccherificio devi scaricare più amico mio basta ok perfetto allora facciamo manovra andiamo allo zuccherificio olè a millimetro a pelo ok andiamo allo zuccherificio e andiamo a scaricare questo primo questo primo raccolto non abbiamo fatto bene a prendere questa di almeno provate da sola a caricare e a fare tutto perfetto tra l'altro lì intanto stiamo continuando a seminare l'erba il che va bene apriamo il cancello perché se no col cazzo che entriamo ok e andiamo a scaricare allo zuccherificio la nostra barbabietola così iniziamo iniziamo a programmare la produzione ok vai scarica anche perché qua poi ne andranno tante molto probabilmente per tutti i tre campi che abbiamo arriveremo a riempire il magazzino e probabilmente poi non ci occorrerà più potremmo quasi quasi anche venderla direttamente a Gold a Gold Crist Valley là come cazzo si chiama e ok allora produzione barbabietola abbiamo ah no questa è la barbabietola da zucchero intera mentre questa qui è quella sbriciolata vabbè 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 ticazzi vai attiva produzione perfetto iniziamo già immagazzinare un pochino di pallet di di zucchero e quando sarà verremo sempre con il camion con il rimorchio e raccoglieremo tutto perfetto facciamo così abbiamo avviato anche un'altra produzione quindi direi quindi direi ottimo perfetto amici miei e allora abbiamo finito di raccogliere intanto qui anche i girasoli ora questi li scarichiamo un attimino qui successivamente poi li porterò al frantoio li lascio qui giusto al volo per portare direttamente la mia titrebbia a raccogliere il mais dell'altro campo poi il mais quello lo andremo a vendere perché tanto non ci facciamo nulla tutta l'erba è stata seminata quindi questo lo possiamo richiudere e lo mandiamo qui questa invece ci saliamo riterà il condotto e la portiamo al campo io sono un pochino un coglione perché quel campo lì non ce l'ho è inutile che vado lì per raccogliere cose che cazzo faccio sono un pirla sono un pirla quindi posiamo questa mettiamo a posto anche la seminatrice che per ora non ci occorre più dopo aver messo l'erba anzi in realtà metto anche direttamente l'orzo che tanto questa poi ci occorrerà solo ed esclusivamente per seminare l'orzo che fare con cui faremo poi le balle di fieno daremo da mangiare alle galline e tutto quanto ma se ne parlerà dal mese di marzo ovvero dall'inizio della nuova stagione dove poi pianteremo anche le olive quindi insomma avremo ancora tanto da fare sganciamo questo e agganciamo il class perché noi abbiamo dei girasoli da portare al frantoio quindi dobbiamo avviare un'altra catena di produzione per forza quindi riempi di girasoli anche se sono 10.000 per ora però comunque ci permettono di fare intanto dei pallet che comunque vi dirò schifo schifo non fanno piuttosto che lasciarli qui a marcire intanto li portiamo lì occhio perché con la neve qui succede sempre un macello usciamo e lo mandiamo al frantoio successivamente torniamo qui perché barbabietola man lì ha finito di fare il secondo passaggio di raccolta le rimorche e portare di nuovo altre barbabietole allo zuccherificio perfetto e anche il secondo carico di barbabietole ce lo scarichiamo qui ottimo così vai allora qui intanto il tizio è arrivato al frantoio licenziamo l'operaio e ci mettiamo qui a vai scarica i girasoli così così possiamo iniziare ad avviare anche questa seconda produzione seppur con poca roba no è già attivata ah si avevo attivato tutto mancava solo solo la merce vabbè non è tanta però qualche pallet riusciamo a farcelo almeno che siano 4 o 5 intanto li mettiamo in magazzino e cerchiamo di sfruttarli ok questo lo rimandiamo qui in azienda allora mentre qui il tutto si continua a fare noi abbiamo da raccogliere intanto ricarichiamo anche la mia di trebbia per foraggio con l'additivo per insilato perfetto perché è arrivato il momento anche di raccogliere il campo di insilato che abbiamo cioè con i semi di soia a questo punto facciamo che colleghiamo il cassone così anche qui assumiamo l'operaio e via praticamente non faccio un cazzo di niente io assumo gli operai e via lavorare un'azienda così cross ha bisogno di operai non posso fare tutto quanto da solo e allora quindi ci dirigiamo intanto estraiamo il condotto perfetto allora apriamo la lama l'additivo per insilato non ho non ho riempito tutto ma no ma non può essere vabbè tanto c'è basta ne consuma veramente poco ok mettiamoci qui facciamo un attimo manovra perché con il cassone dietro non è che è molto easy questa magari la facciamo noi intanto perché ok e si parte così anche con questo faremo inizieremo a fare la prima la prima dose di di insilato lo lasceremo fermentare e poi lo metteremo lì nella lo metteremo lì nella stalla poi eventualmente tanto abbiamo anche l'opportunità di fare le balle di insilato con con l'erba e il raccogli balle che abbiamo apposta quindi insomma diciamo che per ora andiamo così ma ma non abbiamo per forza necessità di fare dei campi enormi con con la soia possiamo adibire appunto un solo campo come in questo caso ogni tanto una volta all'anno ricarichiamo e rimpolpiamo di grande quantità però poi dove ci manca possiamo utilizzare anche l'erba che non è affatto male come come idea intanto procediamo lì la barbabietola è quasi pronta è già carica all'80% diciamo così dobbiamo dobbiamo girare prenderla molto larga che purtroppo con il rimorchio così non è che abbiamo grande sterzata ok perfetto continuiamo la nostra raccolta certo giocarselo anche tutto in prima persona è interessante io spesso mi è capitato mentre così nell'altro profilo in solitaria di giocarmelo tutto in prima persona certo alcune cose sono un pochino scomode come magari parcheggiare dentro il garage e quant'altro così però per molte altre cose è parecchio divertente è parecchio interessante anche se ora dovremo sicuramente lasciare l'operaio perché dobbiamo andare a ricaricare per forza la cosa anzi assumilo immediatamente andiamo qui al camion che dobbiamo che dobbiamo andare a caricare l'altra barbapietola da zucchero ma tanto tutta questa barbapietola da zucchero poi arriveremo ad andarla a vendere a a gold christ valley perché qui arriveremo al punto dove la fabbrica sarà piena e non potrà più ricevere materiale potremo venderla e fare del profitto oppure immagazzinarla e di tanto in tanto venirla a scaricare tanto ora che abbiamo il silo bello grande sinceramente potrebbe non essere potrebbe non essere ma scarichiamoci portiamo la mia di trebbia fino alla fine così magari riempiamo il rimorchio al 100% anche e andiamo a scaricare certo praticamente di affitto di noleggio di questa di questa mia di trebbia da barbapietola praticamente mi ci vorrà un capitale mi ci vorrà sì opera però vabbè bisogna farlo bisogna farlo perfetto lascia così intanto lei riprende il via e io questo lo vado a rimettere lì nello zuccherificio e ladies and gentlemen io poi penso che questo episodio possiamo anche terminarlo perché poi qui provvederò io a terminare off camera anche perché è quasi già un'ora che registro quindi non voglio fare video estremamente estremamente lunghi anche se già apparecchio aia allora ragazzi visto che il rimorchio per l'insilato è quasi pieno ho preso il deus far e stiamo raggiungendo il trattore in modo che poi così possiamo possiamo prendere il rimorchio ok sganciamo il rimorchio così possiamo poi agganciarlo con il deus far e andare a scaricare l'insilato nell'apposito silo perfetto ok andiamo ah beh certo ovviamente ovviamente quello che non mi stavo ricordando è che anche il rimorchio ha la possibilità di caricare l'additivo per l'insilato questo eventualmente quando raccogliamo l'erba rimane da poter fare anche con con quello lì l'insilato vabbè ma tanto noi l'abbiamo messo giusto per per sicurezza intanto questo anche ha di nuovo quasi riempito il serbatoio perfetto bene direi perfetto intanto ci mettiamo qui scarichiamo e poi ci salutiamo ragazzi tutto questo altro poi lo finirò da fare io off camera e dal prossimo episodio vedremo un po' che cosa ci sarà da fare quindi intanto facciamo così per guardare un'altra parte stavo per sminchiare tutto ok vai qua dietro vai qui facciamo manovra ci mettiamo belli al bordo e poi scarichiamo mettiamo tutto qui in fondo perfetto andiamo a ricollegare il rimorchio alla mia titrebbia e proseguiamo quindi ladies and gentlemen io intanto finisco qui questo episodio noi ci salutiamo qui ci vediamo ad un prossimo video su farming simulator 22 andando a vedere un po' che cosa dovremmo fare e ci vediamo ad un prossimo video sempre qui sul mio canale ciao a tutti ragazzi